quello che c'era la cade tutto ora moriamo così esce aiuto aiuto non si esce marcus ha detto che il cimitero delle locuste era in una miniera giusto non sono emozioni si fa dire tra te se qualcuno ha un piano migliore si accettano suggerimenti da caso a dire il vero no d'accordo allora seguiamoli oh odio questa roba ma chi c'è qua? ah no niente è un cartone però fosse carmine non so se qua c'è il carmine di turn che muore sempre il carmine di turn si c'era sempre uno che moriva il fratello tipo la famiglia carmine morivano sempre c'era un collezionabile sicuro il poveri carmine eh si si quegli elmeti ne moriva sempre uno per ogni capitolo ogni uno per ogni partito un collezionabile con una cartolina un collezionabile si c'è qualcosa ecco si no? si guarda la statuetta non so che cosa voglia dire ma è importante prendi da dieeees ssss manu berini ehm non è bene ma come se la sta spassando alla grande questa forza fuori berini? non so spazio siamai tutti pronti tutti pronti tutti pronti granata buona 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 e buona 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 anche questa è fatto muoviamoci torniamo sull'aurmè dello Snatcher ci sono stata cosa fate ? forse avevo fatto su devo sbloccare la boss finale queste cosa niente mi sento lo vuoi fare io ce l'ho tutte non le sprecherò la vecchia caserma o porto di andare in alto verso la fortezza ok quindi è lì che andiamo lo ripeto pensavo stessimo cercando una miniera ah torna nella tua caccia Sì! Sì! Escolta! Granata! Tu l'hai un... un cittivione? No! Un hammer! Ah! Sì! 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 Non va su una storia di un minco. Sì! Sì! Ma faccio il muscolo... Sì! Non ci sarebbe... Sì! 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 è la tua c***o! non possiamo andare a prenderlo come? la buona notizia è che continuiamo a trovare sciame siamo sulla strada giusta attraversiamo la caserma qua c'è un precisione ha droppato e non so perché me la... infatti cos'è strano che c'è tutta fino al 100% facendo la metà ma io mai io ne sono contento così merda! avete visto? ci serve una mano nooo no tipo basta che si sviluppi nella relazione solo non vedete non vedete Oh, provo a scendere, c'è bisogno di stare... Eh, non so, però, a me ne... Certo, se... Che altro, ecco, c'è tipo di fatti, tipo di infatti, un giorno tipo la... 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 la gabbia delle batte di vola... Per un obiettivo, per quello. Eh, perchè proprio nel Royal, è una... nel Royal, sì. Ma ci sarà un collezionabile? Vediamo se c'è un mail muto, o qualcosa... Ah, no, ma... Ah, ecco, sì, la voce di ridere! Un altro browser! Un altro browser! Che cosa che lo faccio? Un altro browser... Genre le rote, non ricordo negli attivi... Ehm... 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 Cosa fa? Siamo qui! Pezzi grossi, stai portando i due Non è finita! Ah si, quella roba dei robotroni Un boss per tre livelli Aiuto! 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 Un blocchi l'avvisuale E' un blocchi l'avvisuale No, non c'è nessuno Se vuoi prendete per le munizioni A due fai Sono per me Proprio quello che mi serviva Non collezionate, eh Non c'è niente Non c'è niente, non mangiare Per me E vai! Sono finiti! Quanto per la fortezza, JD? Non lo so, passiamo prima dal museo Ok, speriamo che sia vietato l'accesso ai pausa Beh, c'è sempre la cassetta dei suggerimenti. Oh no, amico mio, vado diretto dal direttore e gliene dico quattro. Sì, ci manca un po' di carisma, sta gente. Non fanno battute. Non fanno niente, non si segano. Eh no. Non vedete i seghi. Sono anche po' di sollezionabili, ma no. C'è qualcosa? Andiamo a metterci un po' di sollezionabili qua dentro. All'inseguimento! E ancora. Altro sciame! Occhio, torrette! Tu, vai sollezionabili, dai! Ma fai di... Eh sì, dove hai fatto la stessa? Non lasciamoci bloccare da quella cosa! Mi fai molto bene, di rara. Tutto il tuo, no? Sì, stanno... Mi fai molto bene, di rara. Tutto il tuo, no? Sì, stanno... Ehm, che fai... Questo non mi posso fare... Ehm... Ehm... Che pavale... Vieni! Il tuo che c'ha... Ehm... Un drone in meno! Mh... Un tiro con l'altro... andate giù? ok ma perchè? come andai? non sono incazzato grande ora si che si va adesso si che si va dretti grande ragazzo grande ce ne sono ancora belle larme andiamo di sopra e che altro se li fate tutti? no se ero il treno no e che altro se li fate tutti? e non so se questo sarà fatto tre no tre qua oh un colezionabile no no niente colezionabile non lo so non lo so non li ho chiesto oh questa è la palanga di munizioni presto vieni ragazzo mi ha detto vieni ok il museo è libero come va l'anghi? boom sotto dai arrivo guarda c'è uno sciame che si attacca di brutti prendete quello che potete per respindervi sono pronta becchato non va bene guarda 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 devi tirare la sangue progetto ecco becchato prova delle munizioni che è che un bongio si trova la finna ahah questo è un bongio si trova la finna sembra che un bongio si trova la finna che un bongio si trova la finna Niente, credo di andare dietro. Ah, si è sorriscaldato! Attenti, sono entrati! Mira di giro, c'è nemmeno andare. Tornami alla porta! Tornano, respingeteli! Non lo so, non lo so, non lo so. Ora si che sei morto. O? Mega? No, non so, non so, non so. Non so, non so. Non so, non so, non so. Inferta dietro di noi! Cosa? Porca vacca! No no, Milano game week e prende la seconda Grazie Ho fatto molto bene anche prima No, non bene anche prima a Milano, buone Adesso non ho fatto il week, no, è impossibile No, no, no Dietro Ehi, levati di mezzo Dù, restigila Era una mostra spettacolare, ma sembra sia finita Finalmente, troviamo il modo di uscire Ho un commento per la loro cassetta dei suggerimenti Questo museo, schifo È stata una bella battaglia È stata una bella battaglia Eh sì Marks, no niente Carina, è un museo delle armi questo Ha combattuto mia nonna Che da sono sti musei? L'armatura COG è un po' più leggera adesso Sembra pesante Una mostra da inco, ho superato l'assalto, bene, bene Ah, po' No, che neanche, ah, no Andiamo Lo snatcher si è arrampicato fin qui Deve essere da qualche parte Sai cosa penso? Ci vedevano i tuoi ritori Famiglie È stato molto tempo prima che nascessi Sì, ma il COG hanno lasciato marcire questi posti Il primo Gears, ma l'hai scoperto? No, internet Beh, non tutti Ascolta, non dimenticare Mia padre, Reina, Oscar Persino il Gears Hanno passato l'inferno insieme Questi così glielo ricordano e basta Sì E ora anche noi Siamo l'inferno Va bene La rompì Oggi La rompì Qua scendere munizioni se ne hai bisogno Guardi che c'è E' un blocco delle seghe Che c'è? E' un blocco delle seghe Beh, che c'è? E' un blocco delle seghe Che c'è? Sto prendendo subito Wooskill Non te lo segui bene Stai seguendo così bene Ti allenga come segui Stai seguendo così bene No no Ah, devi caricare le fieche Ma no Sai che fai tutti tanti qui Oh, basta Torna da dove sei venuto Non ho mai visto un'arma con i libidi Ci vuole un'arma Quindi si Guarda Quindi si Ok Granata Vito libero Vai bene Vai bene Sono pronti E lolla Ha perso utenti o no? Hai sentito? No Non ho mai visto C'è qualcosa che la gente continua a giocare Vediamo un po' che i giochi tirano C'erano 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 Quelli sono gli streammati Non i giocati I giovani Sì Se potrebbero essere Vividi Eh sì Detti Ponte Ah aspetta Così due a sparare Ah no aspetta Vado a prendere il lancio a segno Aspetta eh Arrivo E' importante una bella segata anche lì chi vuole dove va? dove va? seghe seghe eccolo qua seghe là prima se finivano le munizioni io come segavo sto arrivando eh 10 secondi si va eccomi qua ragazzi mi metto un altro meno qua no no non ho diego qui no no me l'ho convinto perché se la devo spiegare no ecco ma forse sta venendo giù ne rimane ancora una attenzione i fianchini ecco questo dovrebbe andare scusate Non vogliono essere segati. Trovi morto! Non c'è bobbacca, non c'è schifo, spada. Basta essere. Non voglio essere segati alla vecchia maiglia. Non ho una pistolata. Bene, entriamo in questa fortezza. Non c'è un cucchiaio dalla distanza. Ma come abbiamo? Niente. Ok, snaccia...